ciao ragazzi siamo lunedì 11 giugno e oggi una diretta un po alternativa anche un po fuori orario perché come vedete sono al mare sono via una settimana una settimana al mare con la famiglia e quindi mi vedrete da oggi fino a venerdì e parlare dal mare quindi spero si senta comunque ecco eccoci qua vado subito al sodo ho visto un po di domande tante le domande che ti ho visto questa volta sono riguardano il nuoto il nuoto soprattutto guarda caso in mare in acque libere quindi mi concentro su quelle oggi eventualmente le altre domande e vado a risponderle nella diretta di mercoledì ok fatemi segni se per caso non si sente bene che magari provo a cercare un luogo al chiuso un posto al chiuso e così ci sentiamo meglio però se no vado avanti e ok dicevamo ho visto una domanda di riccardo intanto prima prima di partire con le domande complimenti a tutti è perché questo weekend ci sono state le gare di pescara e le gare di rappersville 70.3 entrambi c'è stato anche ovviamente la distanza olimpica pescara per chi per chi ha fatto l'esordio lì c'è stata anche la gara di vivione che che so di cross che so che era un livello molto molto alto e quindi complimenti a matteo caruso che ha detto che si è trovato bene con la gestione con con diciamo le impostazioni dei ritmi e petri ha avuto qualche qualche problemino con la gestione della gara questa volta e si è fatto anche un po male però però succede quindi adesso l'importante è rimbalzare rimettersi in moto come si sa con niente quindi per chi ha fatto il 70.3 per chi è un po segnato da queste gare come dovrebbe essere dopo dopo queste fatiche luigi ciao luigi facci sapere com'è andata al 70.3 per chi è un po segnato mi raccomando una settimana tranquilla una settimana di recupero attivo muovetevi allenatevi però non esagerate avete bisogno di un po di riposo ok questo è fondamentale non so se mi vedete perché vedo vedo un po forse sono contro luce ho il sole dietro aspettate vediamo se mi muovo un po io forse meglio così ok forse meglio che sono seduto qua sullo scoglio ok dicevo allora andiamo subito sulle domande del riguardo riguardo il nuoto in acqua e libere ci sono una domanda di riccardo basso e una domanda di gianni entrambi più o meno mi segnalano che che stanno non sono non sono tanto esperti ancora nel nel triathlon e che entrambi vogliono notare in acqua e libere perché o hanno dei problemi con l'orario di piscina o perché hanno lei perché hanno il mare molto vicino a casa beati loro e quindi e quindi possono notare notare tranquillamente in acqua e libere cosa che è molto molto valido per noi triatleti perché ovviamente il nuoto in acqua e libere è sicuramente diverso di quello in piscina quindi se si può fare pratica in acqua e libere questo è sicuramente un vantaggio sono davide sono a cavalino sono non tanto distante da casa perché con i piccoli non facciamo tante strade ancora quindi siamo siamo a cavalino a fare un po di spiaggia una settimana che hanno finito la scuola e allora dicevo quindi notare in acqua e libere sicuramente è molto valido però ha un aspetto diciamo da da meno positivo che quello che in acqua e libere a volte se non si sa gestire bene l'allenamento è difficile fare allenamenti di intensità allenamenti tipo di quelli resistenza la velocità che trovate nella tabella del live magazine sono difficili da impostare almeno così come sono scritte nella tabella in acqua e libere ovviamente in acqua e libere non si ha il riferimento della distanza e quindi proprio quello che bisogna fare per non perdere questa distanza di questa intensità e non andare e non andare ovviamente a notare solo a lungo andare andare a fare proprio distanza andare avanti indietro magari da una voa all'altra ma senza un particolare obiettivo che sarebbe un po uno spreco di tempo quello che si può fare questo cercate almeno di dividere in due grandi gruppi i vostri allenamenti in acqua e libere uno quello di resistenza ok dove quello che andate a fare sono ripetute lunghe ripetute lunghe con bassa intensità e quindi lì si magari notate da una voa l'altra o vi prendete veramente almeno da due minuti a dieci minuti di nuoto continuo meno siete esperti meno lungo deve essere il nuoto perché perdete un po la tecnica e quindi per rimanere concentrati se non avete una buona tecnica di nuoto fatelo di due minuti come massimo come ripetuta lunga poi una breve pausa di dieci secondi venti secondi e poi ripartite altri altri due minuti e via dicendo e continuate a nuotare così ok questo come resistenza se siete molto esperti se nuotate molto bene comunque non nuotate più di dieci minuti di continuo questo cercate di farlo perché e quei dieci minuti di continuo e vi consentono di rimanere concentrate focalizzate su quello che state facendo e non mandate a far friggere tutta la tecnica quindi rimanete concentrato sulla bracciata avete una vela un bel ritmo di nuotata trovate la vostra frequenza di bracciata giusta e nuotate bene entro dieci minuti dopo vi riposate massimo 30 secondi e ripartite ancora è quasi come fare un nuoto continuo però quelle piccole pause vi consentono di riprendervi un po di ragionare di focalizzare un po l'attenzione sulla tecnica e poi e poi tranquillamente si può ripartire e il nuoto continuo senza mai fermarvi potete farlo sporadicamente giusto per testarvi per capire cosa vuol dire per coprire la distanza che dovete fare in gara però non fatelo ogni settimana perché come vi dicevo il rischio è che fate tanti chilometri però che un po dovete poi buttarle nel cestino perché la intensità è molto bassa e la tecnica è decadente quindi rimanete concentrate sulla vostra bracciata rimanete contentato sulla sulla tecnica anche quando fate resistenza date piano datevi delle pause e non fate mai un nuoto di più di dieci minuti di continuo ok questo come idea nel gruppo di allenamento di resistenza se fate un allenamento di intensità che l'altro gruppo che vi dicevo un po per per stimolare un po la resistenza alla velocità e quindi abituarvi a notare con una buona intensità scusate che sono sono qua seduto ok allora in quel caso la logica è diversa fate le ripetute molto brevi quindi massimo di da 20 secondi a un minuto non di più ok però quelle ripetute le fate in modo intenso quindi andate a notare forte e sparate veramente una vela un bello sforzo e se non se non massimale almeno un livello molto scomodo sentite che richiamate il fiato e fate fate un po di fatica con la bracciata e quindi non la fate troppo rilassata e poi prendete un recupero un po più ampio voglio dire potete prendere se avete fatto 30 secondi di sforzo potete partire da 30 secondi di recupero e poi ripartire con un altro un altro sforzo un altro sforzo elevato e se state facendo più resistenza alla velocità e meno velocità pura allora quei recuperi sono più brevi quindi magari fate un ciclo seguendo la logica della tabella fate 20 secondi e scomodi poi recuperate 10 secondi 20 secondi scomodi recuperati 10 secondi però mantenete una intensità elevata ovviamente quello quello che conta è avere un orologio che ha l'allarme che vi suona ogni volta che dovete fermarvi perché sennò diventate mati e stare lì a fermarvi a guardare l'orologio ogni volta e quindi dimenticatevi la distanza quando siete in acque libere lavorate con il tempo questo è il modo di passare diciamo a trasferire gli allenamenti che si fanno sulla tabella e si fanno sulle acque libere aspetta Davide che ti leggo José muta sempre anche se fa caldo per abituarsi il più possibile o notiamo anche senza muta e notiamo anche senza muta notiamo con entrambi le cose dopo parlo anche del vocale che ha chiesto aspetta non mi ricordo poi non leggo qua adesso poi non ho il computer ovviamente però avevo una domanda sul vocale però dopo lo rispondo il concetto generale che anche riguarda il vocale è ricordiamoci che gli stimoli sono specifici quindi se dobbiamo fare delle gare con la muta molto probabilmente faremo con la muta cerchiamo di dare dare più priorità alla muta soprattutto quando siamo vicino a gara però dobbiamo imparare a notare anche senza muta perché come sapete meglio di me spesso la muta viene vietata soprattutto quando andiamo verso l'estate e l'acqua a volte molto calda qui a Cavallino si può notare tranquillamente senza muta è molto calda e quindi e quindi vuole dire il rischio è di aver fatto tutti gli allenamenti in acqua e libere con la muta e poi trovarsi a notare senza muta e ovviamente capite che il galleggiamento è completamente diverso e quindi siete meno abituati quindi pensate che tipo di gara andate a fare quando la fate se dovete farla con la muta molto probabilmente allora abituatevi a notare con la muta ma qualche volta per cambiare fatelo senza e quindi capite la differenza e almeno siete un po un po abituati però date priorità a quello che pensate che sarà la vostra gara mai una sola cosa mai mai concentrarsi solo con muta o senza muta perché ovviamente si perdono delle capacità ok questo è un po un po il concetto di fatto quando si parlava del vocale quando quando si parlava del vocale e il concetto è il vocale è molto valido e non si può fare te l'hanno già risposto però non si può utilizzare in gara perché un è un aiuto in più che non che va vietato e quindi tu devi notare con le tue capacità oltre la muta è l'unica cosa che è consentita quando quando la temperatura lo consente per il vocale non è consentito quindi quello che si fa è che lo puoi usare in allenamento ed è valido però ripeto ha una sua valenza e non può essere abusato e perché perché se si pensa quando si va in gara non si va con il vocale e bisogna saper incorporare nella notata è il momento del respiro e il coordinamento della della notata si trovi bisogna trovare un ritmo dove il respiro va incorporato quindi se noi siamo abituati sempre notare con la testa bassa con il vocale che spunta e non dobbiamo mai girarci dopo quando ci troviamo in situazioni di gara ci troviamo che siamo completamente insabituati a incorporare nella notata questa rinicità tra la bracciata e il respiro quindi il vocale si adesso vi dico quando si usa però non sempre e soprattutto toglietelo toglietelo vicino alle gare ok perché se no vi abituate male poi quando siete in gara vi viene di stare con la testa giù e di non respirare e non vi trovate coordinati e questo vi porta sicuramente più fatica in gara quando si era il vocale ed è molto utile serve soprattutto soprattutto per chi inizia e per chi inizia a notare e ha bisogno di avere e avere diciamo imparare a coordinare bracciata con rollio e anche con l'aspetto di tenere il corpo in una posizione rigida perché se voi vedete un principiante tendenzialmente il corpo balla da una parte all'altra le gambe li ballano da una parte all'altra e non non tiene una certa rigidità che è necessaria nel corpo se se quando si nuota il corpo è rigido ha una certa rigidità non una tensione eccessiva però una rigidità che consente di tagliare l'acqua tutto il corpo allora si fa più strada si galleggia meglio e si va si fa se fanno più metri tra una bracciata e l'altra se il corpo è troppo molliccio e balla tutto dietro come si vede spesso in piscina allora questo crea un sacco di resistenza e non si va avanti quindi se si fa il vocale o si mette il vocale avanti si mettono magari si mette il pull boy e addirittura si legano le caviglie si crea un corpo unico che parte dalla testa al pull boy che solleva le gambe le caviglie sono allungate quindi se si obbliga si si obbliga il corpo a diventare un corpo unico un pezzo unico questo aiuta molto perché in quel momento con un corpo unico si incomincia ragionare sulla bracciata e si tiene la testa sempre sotto acqua a guardare bene la mano come entra e spinge l'acqua bene quindi sempre con il polso che entra prima il gomito rimane alto e poi si finisce la bracciata quindi si rimane molto concentrato sul movimento di bracciata legata al rollio senza mai alzare la testa questo in fase iniziale è molto utile però ripeto se si abusa se non si sa gestire nel mix di strumenti di allenamento si crea poi una dipendenza e il nuotatore impara troppo a stare con la testa sotto acqua e non sa respirare in modo corretto e non sa gestire il ritmo giusto che si deve trovare tra la bracciata e il respiro quindi la maggior parte dei giocattoli in piscina degli attrezzi sono sono tutti utili bisogna capire bene cosa servono e come vengono utilizzati quindi per capire quali sono i vantaggi quando sono le svantaggi e soprattutto anche quando utilizzarli e in che fase dell'allenamento ok ok queste erano le domande del nuoto c'era una domanda anche di alessandro forte è un po riguardo alle proteine in quel caso lì alle tu chiedevi quando li prendo li prendo subito dopo allenamento come indicato nelle proteine che prendi tu non so quali sono o le prendo la sera prima di dormire allora premia sale e le proteine in polvere sono un modo comodo per poter ingerire più proteine senza dover cucinare sempre quindi ti danno la facilità di in pochissimo tempo mettere da 20 a 30 grammi di proteine subito nella tua nutrizione e quindi può essere comodo prenderlo dopo allenamento dopo che ti sei preso acqua i glucidi e sali per avere subito un po di proteine che è fondamentale nel pasto e dopo allenamento avere dei glucidi proteine nel pasto dopo allenamento è molto è molto importante perché aiuta a recuperare però quello che puoi fare che dopo che sei uscito dal tuo allenamento hai finito il tuo allenamento idealmente vai a mangiare a casa e nel tuo pasto mangia un pasto con delle proteine in quel caso lì non hai bisogno di mangiare polvere di proteine che ovviamente non ha la stessa valenza biologica e non ha la stessa capacità di nutrizione del tuo fisico come può essere un pasto naturale e non sintetico ok però se per dirti sei di fretta non hai non hai tempo ovviamente mangiare qualcosa o una barretta proteica o delle polvere di proteine mescolate sicuramente aiuta dopo 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 un allenamento stesso discorso la sera quello della sera è comodo prima andare a dormire e prendere un po di proteine e se per dirti sì ma tu fai la cena molto presto alle otto alle sette e mezza e hai già mangiato e vai a letto alla a mezzanotte prendere un bicchierino di proteine aiuta aiuta sicuramente a recuperare anche durante la notte quindi è una questione di di comodità utilizzare il polvere di proteine tutte le proteine le puoi ingerire con la tua dieta normale naturale però a volte è difficile prepararsi tutte le cose e averla portata di mano e quindi il polvere di proteine o la barretta proteica aiuta in questo senso e quando è meglio prenderle o una dopo in realtà tu dovresti prendere proteine un po durante tutto il giorno entrambi i momenti sono importanti quello più importanti per me è quello dopo allenamento però sicuramente anche prima di andare a letto vale la pena avere un'entrata proteica nel tuo fisico perché aiuta anche la produzione dell'ormone della crescita aiuta a recuperare durante la notte se nella tua dieta mangi già abbastanza proteine eviterei di prendere quello subito dopo allenamento come ti dicevo lo mangi nel pasto normale e magari ti fai un shaker o una barretta proteica piccola di 20 grammi 30 grammi di proteina massimo prima di andare a letto una mezz'oretta prima di andare a letto ok quindi ricordiamoci sempre che gli integratori non fanno miracoli integratori sono integrano vanno a complementare la nostra dieta si la nostra dieta è già molto molto buona praticamente non abbiamo bisogno di integratori ok e petri una domanda ciao se faccio una domanda più pratica riguardante il nuoto in acqua e libere se hai tempo vediamo se come ieri mare ci fosse molta corrente delle volte ci si rende conto che la corrente è talmente forte da restare fermo anche se si meno le braccia come consiglio di nuotare e allora in acqua è libere e il consiglio è quello di non perdere mai la presa soprattutto quando quando l'acqua non è non è calma e quando l'acqua è molto mossa e quando c'è molta onda quando c'è corrente contro sicuramente non si può scivolare non si può fare la scivolata della piscina che si che si dà la spinta e si sta un attimo di scivolata e poi si parte con la bracciata la scivolata e poi si parte con la bracciata no quella pausa di scivolata deve sparire ok quindi deve essere il braccio sempre sempre in presa in questo modo qua e quello non vuol dire attenzione su questo quello non vuol dire che bisogna sbracciare come dei matti perché sbracciare non vuol dire essere sempre in presa e avere sempre l'acqua sotto le mani vuol dire sbracciare a volte quando si muove le braccia come dei matti semplicemente si spresa si spreca tanta energia però non si sta prendendo dell'acqua l'importante è che quando la mano entra uno senta subito l'acqua e la porti indietro senti l'acqua e la porti indietro senti l'acqua e la porti indietro questa sensazione deve esserci se tu senti che stai muovendo le braccia però non stai andando avanti non stai sentendo l'acqua che si intrappola diciamo nel tuo avambraccio nel tuo nella tua mano e la stai riuscendo e stai riuscendo appoggiarti in questa massa d'acqua per andare avanti allora vuol dire che stai muovendo troppo e non stai andando avanti stai sprecando solo energia quindi il consiglio è togli il scivolamento se ce l'hai nella tua notata però soprattutto non sbracciare anche al punto che ti muovi talmente tanto le braccia però non stai prendendo l'acqua perché hai la sensazione solo di muovere le braccia per non andare avanti quindi senti l'acqua sentila bene e portala indietro sentila bene e portala indietro senza nessun tipo di scivolamento quindi entra la mano la senti la spingi entra la mano la senti la spingi senza pause perché la scivolata con la corrente contro ovviamente ti porta indietro tu devi lottare contro quella corrente e non puoi stare fermo ok è come pedalare in salita devi stare sempre con la pressione sul pedale stesso concetto in acqua se sei in controcorrente devi avere sempre pressione sull'acqua se la pressione sull'acqua la togli ti porti indietro come nella bici ok ok va bene mi sa che per oggi la chiudiamo qua se mi è sfuggita qualche domanda particolare vi rispondo mercoledì ovviamente sono un po' limitato adesso non mi porto il computer qua in spiaggia però dopo lo guardo e se mi è saltata qualche domanda magari vi rispondo mercoledì comunque se no ci sentiamo ci sentiamo mercoledì e scrivetemi qualsiasi cosa raccontateci se volete le vostre gare di questo weekend perché sarebbe carino capire come è andata come cosa ha funzionato cosa non ha funzionato e soprattutto ecco quali sono le vostre esperienze in generale va bene ragazzi vi saluto torno a faticare in questo brutto questa brutta giornata di mare in realtà vado a giocare con i piccoli fra un po' che è abbastanza impegnativo comunque vi lascio adesso ci sentiamo e buoni allenamenti buon divertimento e ci vediamo mercoledì ciao ragazzi ciao ciao